in questo video vi presento un mini tutorial di sopravvivenza per utilizzare linux vedremo come installare una distribuzione useremo un ubuntu o derivata e come muoversi all'interno di questa utilizzando il terminale quindi impareremo i comandi di sopravvivenza di linux all'interno di una scelta classica se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo non ti costa nulla e mi dai una mano a proseguire l'attività iniziamo subito il punto di partenza per poter iniziare a lavorare con linux è avere linux esistono veramente tantissime distribuzioni direi decine un filone principale sono quelle basate su debian quindi è possibile lavorare con debian ma per molti potrebbe essere un ambiente un po difficile per fortuna esistono tutte le distribuzioni derivate da debian in primis la ubuntu che possiamo scaricare quindi sul sito ufficiale di ubuntu.it possiamo scaricare quella ufficiale lts sta per long term support vuol dire che sarà garantito l'aggiornamento di questa release per un certo numero di anni in modo che possiate utilizzarla sempre per con tranquillità in alternativa all'ubuntu ufficiale se utilizzate un hardware un pochino datato potete andare a cercare una delle distribuzioni alternative come la cubuntu o la ubuntu la differenza è nell'ambiente grafico che è più o meno pesante quindi abbiamo per esempio la cubuntu oppure ancora la ubuntu il cuore è sempre debian barra ubuntu cambia l'interfaccia grafica per quello che faremo noi una o l'altra va benissimo lo stesso perché useremo principalmente i comandi da terminale quindi andate a scaricare la distribuzione che vi interessa anche per le ubuntu c'è sempre lts che è long term support altrimenti ci sono delle release che vengono fatte periodicamente qui addirittura ci mostra i tempi delle varie release e le previsioni quindi vedete che le lts sono garantite scaricate la 24 04 viene garantita fino al 2029 circa quindi scaricate la versione che preferite poi vi servirà una chiavetta usb per poter caricare il software e preparare l'ambiente di installazione vi serve una chiavetta da 8 barra 16 gigabyte a seconda delle dimensioni della iso che scaricate potete utilizzare balena etcher se andate sotto prodotti balena io il sito balena etcher è il software lo potete scaricare per il vostro sistema operativo c'è per windows mac linux quello che vi serve lo scaricate e poi una volta che avete scaricato il software ecco qui balena etcher potete uno scegliere la iso selezionare il target e poi lanciare l'installazione in questo caso ho già preparato una chiavetta con una versione di ubuntu lightweight poi vi serve un computer su cui installarlo potete installarlo interamente su un pc oppure se avete un'installazione di windows potete andare installarla in parallelo è un pochino più laborioso vi lascio a internet e google per trovare come fare per provarla e fare vedere anche il percorso di installazione ho installato sul mio computer virtualbox virtualbox vi permette di creare una virtual machine su cui installare o lanciare ubuntu inserisco la chiavetta usb e qui creiamo una nuova distribuzione quindi abbiamo una vecchia la possiamo rimuovere per creare una nuova virtual machine clicchiamo su new diamogli un nome ci fa scegliere dove metterla lasciamo nella folder che mi suggerisce in teoria potremmo anche già fornirgli una iso se non volete usare balena etcher quindi se non volete usare la chiavetta e usate la virtual machine potete addirittura selezionare direttamente il file iso che avete scaricato proviamo andare a cercarlo io ne ho scaricato uno ce l'ho qui sotto download ho una vecchia xubuntu basato su xfce che è l'ambiente grafico facciamo open viene individuato il sistema linux ubuntu lasciamo più o meno tutto così facciamo finish viene creata la virtual machine con le impostazioni di base ed ecco che parte nell'installazione apparirà se vuoi provare o installare ubuntu parte in automatico il try or install questo vi permette comunque di provare anche senza installare se voi mettete la chiavetta e aspettate un pochino mettete il tempo di caricarsi avrete il vostro sistema utilizzabile direttamente senza installarlo quindi in prova ovviamente sarà tutto come dire temporaneo attendiamo che l'ambiente sia pronto virtual box ha intercettato la iso di linux e ha già fatto tutto lui quindi già installato tutto il sistema creando già un utente con una password password change mi inseriamo ed ecco qua il nostro sistema pronto per essere utilizzato ovviamente è un pochino lento perché è una virtual machine attendiamo la partenza e abbiamo il nostro linux pronto da utilizzare per fare delle prove il sistema linux è basato sempre su il kernel quindi il kernel è la parte centrale del sistema operativo viene costantemente mantenuto ed aggiornato le altre parti fondamentali sono il file system formato da file e cartelle con la possibilità di creare utenti gruppi e questo negli anni 90 quando è uscito era abbastanza innovativo perché i tempi c'era solo il dos poi abbiamo le shell dico le shell perché ce n'è più di una per esempio la bash corna tcsh eccetera eccetera e poi una serie di programmi di utilità per esempio editor o altri programmi che possono essere utilizzati per fare quello che dobbiamo fare nelle installazioni moderne abbiamo anche sempre il server grafico con installato un'interfaccia grafica come in questo caso una volta che il sistema è installato abbiamo la nostra interfaccia grafica a finestre qui possiamo aprire il menu che a seconda della versione potrebbe essere in alto in basso vedete un po' voi ci permette di utilizzare i vari programmi installati il sistema di ubuntu utilizza un gestore pacchetti per cui avrete sempre come in questo caso software se voi aprite questa finestra troverete un gestore pacchetti gestore programmi che vi permette di installare con facilità tutto quello che vi può servire la prima volta scaricherà il catalogo e poi potete scegliere per esempio di installare che ne so io un editor come gimp arduino eccetera eccetera anche se potete poi scaricarli e installare direttamente a mano utilizzando il browser e cliccando sui file di installazione che scaricherete in ogni caso il nostro scopo è quello di utilizzare imparare usare il terminale a seconda della vostra distribuzione troverete il terminal emulator quindi aprendo il terminale apparirà la classica finestra nera in cui possiamo andare inserire comandi per muoverci all'interno di linux per lavorare nel nostro sistema utilizzeremo di solito il terminale lo scopo anche di questo video per imparare a muovere i primi passi qua quindi aprendo a tutto schermo abbiamo qui il nostro terminale che utilizzeremo per muoverci e per lavorare all'interno di linux lo apro tutto schermo la prima cosa che impariamo a fare è il comando ls serve per elencare i file visibili nella posizione corrente la shell ha sempre un carattere in questo caso il dollaro che è il prompt quindi li attende che noi inseriamo i comandi per muoversi fare insomma e interagire con il sistema ls lista vedere i file presenti nella posizione corrente siamo in un sistema in un file system organizzato a cartelle quindi quelle che vedete qua in blu sono le cartelle visibili in questo momento un altro comando importante pvd che ci fa vedere il percorso corrente partendo dalla root la root inizia sempre con la barra la troviamo sul tasto 7 nei sistemi linux la le barre sono girate rispetto a quello windows quindi inclinata verso destra salendo siamo di solito quando apriamo un terminale nella cartella home cioè la cartella dell'utente ogni utente nella sua cartella le cartelle degli utenti creano un po il suo ambiente di lavoro e diciamo di vita delle proprie applicazioni delle proprie attività sono tutte raccolte dentro home all'interno di home troviamo vbox user che coincide con il nome del login che abbiamo utilizzato quindi qui è dove siamo vediamo alcune varianti del comando ls per cercare di capire come utilizzarlo per vedere controllare i file all'interno di una cartella per vedere l'effetto di ls ci conviene creare alcuni file un sistema per creare dei file lavorando solo da terminare quello di utilizzare il comando touch comando touch vi permette di toccare un file e serve solitamente per aggiornare la data e ore di modifica se il file non esiste lo crea quindi se volessi creare alcuni file mi basta fare per esempio file 01.txt con davanti touch poi facciamo touch e creiamo un file 02 sempre con touch creiamo un file main.c creiamo un file main.o creiamo un redmi.txt e così via andiamo a vedere l'effetto utilizzo ls senza parametri e vedete qua che sono apparsi alcuni file quelli che ho creato con touch assieme alle directory che hanno il colore blu e sono evidenziate da un po' di anni ormai questa parte il comando ls evidenza il file mettendo i colori in modo che sia più semplice riconoscerli ogni comando può essere seguito da una serie di argomenti parametri per esempio se facciamo ls meno l ho una lista con tutti i dettagli vedete qua una serie di scritture un po' particolari che poi andremo a interpretare possiamo solo notare per ora che davanti alle directory che sono quelle blu troviamo una d questi che seguono sono poi i permessi abbiamo poi un numero che indica il numero di link che puntano a queste file o cartelle nome utente gruppo dimensioni e la data possiamo andare a vedere anche i file nascosti utilizzando il comando ls meno la come vedete appaiono molti più file e i file nascosti sono quelli con davanti il punto quindi normalmente su un ls classico questi file non li vediamo possiamo provare un altro parametro per esempio f meno f maiuscolo evidenzia i file e le cartelle le cartelle sono riconoscibili perché terminano con la barra quindi se usiamo questa modalità abbiamo poi ls meno r maiuscolo questa è un'altra modalità ancora che va a vedere anche all'interno delle cartelle quello che trova il comando ls usiamo lsmnl può ricevere altri argomenti in particolare posso dire che file voglio vedere se voglio informazioni sul file main.c voglio tutte le informazioni dettagliate farò lsmnl main.c e do invio e qua vedete che viene filtrata l'uscita prodotta da ls andando a concentrarsi solo su main.c possiamo utilizzare dei caratteri giolli se abbiamo più file per filtrarli o selezionarli in modo più preciso per esempio se noi mettiamo l'asterisco con l'asterisco vuol dire tutti i file tutti i nomi file che vede che arrivano al comando facendo è asterisco punto txt dico tirami fuori tutti i file che hanno nome qualsiasi poi punto txt txt è l'estensione diamo invio vedete che escono solo i file con estensione txt possiamo utilizzare anche i caratteri con il punto di domanda per esempio se volessi tirar fuori tutti i file che hanno due caratteri punto txt facendo così tira fuori 0102 quindi vado a usare caratteri giolli singolo carattere per esempio possiamo fare main nel punto mettiamo punto di domanda tira fuori ovviamente c.o è possibile anche creiamo un altro file però con touch touch facciamo file 03.txt quindi abbiamo tre posso fare un ls meno l metto file questo è costante poi metto due quadri parentesi quadri e qui dentro metto per esempio da 1 a 2 anzi 0 qui davanti 1.2 punto mettiamo asterisco vediamo cosa succede do invio allora con questa scrittura abbiamo detto tirami fuori tutti i file che iniziano per file 0 in cui il sesto carattere è un 1 o un 2 quindi da 1 a 2 con estensione qualsiasi quindi c'è anche la possibilità di usare le quadre per mettere dei gruppi di caratteri posso leggere il contenuto di un file utilizzando cat purtroppo non abbiamo file con dei contenuti ne creiamo uno velocemente posso fare ls menelle lo creo in questo modo con questa freccia c'è il contenuto di ls lo riverso tutto in un file che chiamo esempio punto txt poi andremo a capire questo mi serve per avere un file con un contenuto se faccio ls abbiamo esempio punto txt se faccio cat sta per catalogo cataloga esempio la scena di linux è abbastanza ci aiuta nello scrivere i comandi se io ne scrivo solo una parte poi premo il tasto tab viene autocompletato in automatico con cat vediamo il contenuto del file quindi qua esempio contiene l'elenco di tutti i file che abbiamo estratto con cat li tiro fuori tutti ci sono altri comandi simili a cat per esempio tail tail di esempio mi fa vedere solo le prime 10 righe anche tail ha dei parametri se non sbaglio possiamo mettere meno 5 e mi fa vedere le prime 5 righe all'interno del file un altro comando utilizzato spesso per andare a vedere il contenuto di un file è more more a differenza di cat ci permette di lavorare in modo interattivo se facciamo more e diamo come parametro esempio punto txt ok qui non ci cambia nulla proviamo a ridurre le dimensioni della finestra ok con la finestra ridotta vedete che il lettore diventa interattiva e abbiamo qui sotto un'indicazione mi dice sono al 41% se faccio spazio vado avanti di una pagina per volta e poi arrivo fino in fondo questo ci permette di leggere un file se è troppo lungo e non ci sta all'interno della pagina e non possiamo scorrere con il cursore di fianco nel nostro terminale risalendo allora vediamo il simbolo che ho usato prima questo maggiore è il carattere di ridirezione serve per prendere l'uscita prodotta da un comando e riversarlo su un file abbiamo visto prima facendo lsmnl lsmnl mi fa l'elenco dei file visibili nella posizione corrente noi possiamo fare lsmnl gli metto la ridirezione tutto quello che produce lsmnl buttalo all'interno di un file facciamo esempio2.txt diamo invio non vediamo nulla tutto quello che è stato prodotto da lsmnl se è finito dentro esempio.txt facciamo un lsmnl vediamo qua esempio2 943 byte di dimensioni quindi leggermente più grandi di quello di prima vediamo il contenuto con cat cat esempio.txt e questo è il contenuto del nostro file che abbiamo prodotto in qualche modo attenzione perché la ridirezione prende e riversa cancellando il file esistente se invece che usare la singola freccia come vedete qua vedete scorrere i comandi li sto facendo scorrere premendo i tasti su e giù i tasti cursore vado indietro nella storia questo è molto comodo per non dover digitare troppi comandi mettendo la doppia freccia invece che andare a cancellare e creare il file andiamo ad aggiungere in coda quindi in questo caso andremo ad aggiungere un altro lsmnl a esempio.2 che adesso avrà delle dimensioni almeno doppie difatti vedete esempio2 è arrivato 1886 a questo punto se facciamo cat di esempio2.txt vedete che c'è molto più contenuto un altro carattere che ha a che fare con i flussi prodotti dai comandi è la pipe la pipe è la barra verticale la pipe serve per collegare tra di loro comandi sono un po la forza di linux dei comandi linux perché vi permettono di realizzare operazioni complesse concatenando vari comandi tra di loro ci sono dei comandi speciali che servono per fare filtri e cose di questo tipo che non vedremo però in modo semplice posso fare per esempio lsmnl faccio pipe e lo butto magari su tail per vedere l'effetto proviamo a ridurre la finestra facciamo lsmnl modo da renderlo interattivo faccio pipe e chiamo more in questo modo ho una visualizzazione interattiva dell'elenco premiamo spazio per arrivare in fondo abbiamo preso tutta l'uscita di ls non è finita su un file abbiamo mandato a more che mi permette di visualizzarla avendo la paginazione possiamo provare a fare un altro esempio concatenando più comandi esiste il comando sort che dovrebbe ordinare il contenuto di un file faccio sort e esempio 2.txt ha riscritto il file ordinandolo in modo alfabetico qui le ha messe prima tutti i d poi tutti i file con il trattino in qualche modo è cambiato il contenuto vedete poi in fondo c'è il totale quindi produce un qualcosa quindi sort esempio lo concateniamo con cat a cat aggiungiamo il parametro meno n che aggiunge il numero di riga e poi mettiamo more abbiamo concatenato tre comandi diamo invio termina subito però dobbiamo per apprezzare ridurre la dimensione della finestra in modo che more possa agire allarghiamo un po' riprendo il comando cliccando il tasto verso l'alto do invio e vedete qua sarebbe meglio magari allargarlo un po' così facciamo ctrl c do invio rimando il comando ok come vedete abbiamo sulla sinistra il numero di riga e poi qua il contenuto che è stato estratto primo spazio scendo arrivo fino in fondo è possibile fare delle operazioni anche con i flussi di errore d'ingresso ma sempre per un utilizzo minimo non trattiamo questo tema che potete approfondire la mia scelta si comporta come un ambiente di programmazione quindi potrei andare a creare anche delle variabili che posso utilizzare creo una variabile mettendo il nome a scelta evitate di avere nomi variabili con degli spazi dei numeri all'inizio quindi cercate di dare nomi sensati poi metto uguale e gli metto quello che voglio per esempio mettiamo poeta uguale dante do invio non è successo nulla abbiamo però creato una variabile che possiamo richiamare posso utilizzarla o stamparne il valore per esempio con eco un po' quello che fa la print e la variabile però devo richiamarla utilizzando il dollaro davanti quindi se faccio eco dollaro poeta ecco che compare il contenuto che è dante questo perché possiamo raccogliere un insieme di comandi all'interno di uno script che poi possiamo eseguire questi script di solito hanno come estensione .sh e possono essere eseguiti da shell per creare uno script allora lavorando a terminale si possono usare degli editor come per esempio vi vi è un editor abbastanza estremo ma lo trovate in tutti i sistemi linux se io faccio vi spazio e poi metto il nome del file che voglio creare mettiamo prog.sh do invio e questo è l'ambiente di lavoro di vi dove non c'è nulla quindi è un editor molto estremo per iniziare a scrivere devo premere il tasto i che sta per insert una volta premuto i sono in modalità scrittura e qua potrei mettere i comandi lsmnl e buttiamo l'uscita di lsmnl dentro per esempio un file out.txt non mettiamo nient'altro però ovviamente potete andare a creare proprio dei programmi veri e propri no? è quasi un ambiente di programmazione ma per uscire da vi dobbiamo usare una procedura un po' particolare l'interfaccia è abbastanza ostica primo esc faccio due punti vedete che appare sotto la modalità comando esc mi fa uscire dalla modalità di editing per entrare nell'editing premo i poi per salvare il file metteremo write quindi w q che sta quit e punto esclamativo per dire fallo subito quindi wq punto esclamativo do invio e usciamo se faccio ls troverò il nostro programma prog.sh faccio ls troviamo il nostro programma prog.sh come vedete è in grigio e non è eseguibile per renderlo eseguibile usiamo un comando che tratteremo poi in modo più dettagliato tra poco che è chmod modifica la modalità le modalità del file un file può essere letto scritto o eseguito in questo caso prog non è eseguibile per dire che lo rendiamo eseguibile uso il comando chmod più x che sta aggiungi del permesso di esecuzione e poi mettiamo il nome dello script in questo caso prog diamo invio faccio ls vedete che ora prog è diventato verde per eseguirlo usiamo non possiamo semplicemente chiamare il nome ma dobbiamo dire il file nella cartella corrente quindi per dire nella posizione corrente nella cartella corrente si usa il punto semplice punto barra metto prtab viene completato vuol dire che il file è visto do invio facciamo ls troviamo out.txt che è il prodotto dal nostro script posso fare cart di out.txt per vedere il contenuto diamo clear per pulire lo schermo abbiamo visto che esiste punto che indica la posizione corrente posso muovermi nelle cartelle quindi in su e in giù navigare nel mio file system utilizzando cd seguito da ad esempio punto punto per salire di una posizione allora attenzione dove siamo faccio pvd questo è la posizione corrente se volessi salire di una posizione quindi andare verso home faccio cd spazio punto punto do invio facciamo pvd vedete che siamo adesso in home facciamo ls vedo solo vbox user perché è l'unico utente che abbiamo se volessi finire nella root potrei fare cd punto punto oppure cd barra un percorso assoluto con cd barra finisco nel percorso root alla cima del nostro file system facendo ls qua vedete ho tutta una serie di cartelle particolari queste cartelle sono le cartelle di sistema ed è poco raccomandabile andare a toccarle a meno che non sappiate bene cosa abbiate intenzione di fare una cartella che si va a toccare spesso è l'etc dove abbiamo per esempio le configurazioni possiamo andare a sbirciare il contenuto facendo cd barra etc chiamo invio faccio ls vedete quante cose ci sono qui dentro sono tutti i file di configurazione del sistema e toccarli senza sapere quello che si fa può produrre qualche danno facciamo cd punto punto per tornare indietro do pvd per vedere dove sono voglio tornare a casa posso fare cd o v box user eccetera eccetera oppure c'è anche la possibilità di inserire la tilde la td la possiamo ottenere con il tasto alt gr o option su mac e la i accentata eccola qua se do invio faccio pvd siamo tornati nella nostra home posso creare una cartella utilizzando mk dir e faccio my doc il nome della cartella diamo invio faccio ls vedete che è apparsa my doc per entrare dentro my doc faccio cd my doc ovviamente vuota con pvd posso vedere dove siamo cd punto punto e salgo di una posizione i comandi per gestire i file sono cp per copiarli mv move per rm per cancellarli facciamo qualche esperimento vediamo come copiare un file voglio copiare il file 01 punto txt voglio fare una copia di sicurezza clicchiamo file 01 punto back sta per backup do invio ls ed ecco che abbiamo creato la nostra copia lo vedete qua quindi è molto semplice posso fare la copia non solo nella cartella corrente ma per esempio di un file nella posizione corrente in una cartella per esempio my doc se volessi fare la copia di file 01 punto txt e lo voglio mettere dentro la cartella my doc allora intanto qui davanti mettiamo cp quindi copio il file 01 e dico dove faccio punto barra il percorso è my doc lo lascio vuoto in questo modo verrà usato lo stesso nome diamo invio posso fare ls di my doc mi fa vedere cosa c'è dentro my doc vedete c'è file 01 se voglio essere più tranquillo quando faccio delle operazioni sui file invece che usarli così secchi quindi il comando e basta aggiungo l'opzione menu con meno i me lo chiede dice vuoi sovrascrivere il file perché lo vedo già quindi possiamo dire sì oppure no yes or no diciamo no e siamo tranquilli in modo analogo questo funziona move mv mv può essere utilizzato per spostare un file quindi non per copiarlo abbiamo creato prima il file 02 proviamo a spostare il file 02 quindi facciamo file 02 punto txt lo voglio spostare all'interno di punto my doc anche in questo caso se vogliamo stare più tranquilli prendiamo l'abitudine di mettere meno i in questo caso non ha trovato nulla in conflitto e l'ha spostato andiamo dentro my doc facciamo ls di my doc e troviamo entrambi i file mv può essere usato anche per rinominare un file quindi se lo muovo sullo stesso posto per esempio faccio mv mettiamo sempre meno i per sicurezza facciamo file 01.bac lo trasformiamo in file 02 che abbiamo spostato quindi mettiamo qua file 02.txt quindi prende il file 01 e lo trasforma lo rinomina in file 02.txt quindi il move può essere usato anche per questo scopo infatti troviamo qua il nostro file 02 abbiamo poi rm rm serve per cancellare un file quindi se creo un file abbiamo creato prima out.txt lo voglio buttar via faccio rm di out.txt do invio e come vedete non c'è più è sparito fate attenzione a usare rm usando per esempio asterischi bar e cose del genere mettete sempre precisamente il nome del file perché può essere veramente distrutivo potete cancellare tutto il file system in un colpo solo posso copiare anche delle cartelle intere usiamo cp per copiare una cartella intera mi metto davanti l'opzione main r che vuol dire recursiva voglio copiare my doc quindi cp facciamo punto barra mi faccio aiutare da tab my doc e la creiamo facendo my doc 2 diamo invio faccio ls mi trovo due cartelle my doc 2 e se facciamo ls di punto barra my doc trovo due file se faccio ls di my doc 2 trovo gli stessi due file perché abbiamo fatto la copia della cartella funziona anche con move quindi posso muovere tutta l'intera cartella utilizzando l'opzione recursiva sequestra a file all'interno parliamo sempre di file una cosa utile è la possibilità di creare dei link con il link semplicemente vado a dare un nome aggiuntivo a un file per esempio abbiamo il file main.c mi metto dentro my doc cd my doc siamo qui dentro ho file 0102 voglio avere una copia del main.c anche qua per non copiare fisicamente anche il file posso creare un link in modo da avere semplicemente il nome una specie di puntatore al file senza aver fisicamente una copia un duplicato del file per creare un link faccio ln sta per link abbreviato metto il nome del file originale il file originale nella cartella sotto my doc quindi farò punto punto barra main.c e poi gli do il nome che voglio qua faccio main.c do invio facciamo ls e mi trovo main.c facciamo ls-l guardate un po abbiamo questo file main.c vedete qua non riesco a capire che è un link lo posso capire solo da questo numero 2 vuol dire che ci sono due riferimenti al vero file main.c scendiamo di un livello torniamo nella nostra cartella di lavoro faccio ls-l di main.c vedete che anche qua segna due riferimenti posso editarlo da una parte o dall'altra quindi se io faccio qua vi di main.c mettiamo dentro hello punto esclamativo per editare metto i e poi scrivo hello punto esclamativo esc due punti vq punto esclamativo esco facciamo cat di main.c vedete che c'è scritto hello vado nella mia cartella faccio cd my doc ls trovo main.c facciamo cat di main.c e trovo lo stesso contenuto proviamo modificarlo qui faccio vi di main.c proviamo modificarlo qui faccio vi di main.c sono dentro my doc quindi sta lavorando su il cosiddetto link vado mi sposto faccio a per fare un append sulla copia punto esclamativo esc due punti vq punto esclamativo usciamo cat di main.c vedete che qua c'è sulla copia faccio cd punto punto vediamo qua sull'originale abbiamo le differenze faccio cat di main.c e vedete che anche qua abbiamo la modifica esiste un'altra possibilità di creare link che è i link simbolici i link simbolici si creano utilizzando ln con l'opzione main.c il resto è tutto uguale quindi se volessi creare un link simbolico questa volta main.o mi metto sempre dentro my doc facciamo ln main.c perché il link è simbolico vi dico il file originario quindi punto punto facciamo questa volta main.o e creiamo qui main.o do invio ls vedete che questa volta cambia il colore mi accorgo che è un link simbolico faccio ls-l vedete che adesso a differenza di prima ho una l davanti che mi indica che è un link simbolico il colore diverso e mi dice il file a cui punta rispetto prima in questo caso che cosa cambia nei sistemi linux il file system è sempre unico parte sempre dalla root se io collego più unità fisiche più dischi non vedo la differenza è sempre tutto all'interno di questo albero gigantesco quindi non ho il cd eccetera eccetera tutto visto come cartelle se un file è su un altro disco su un altro media e voglio creare un link non posso farlo perché i link normali funzionano solo all'interno dello stesso disco dello stesso device se voglio fare un link tra due dispositivi diversi e spesso non lo sappiamo devo crearlo simbolico quindi è meglio sempre lavorare con i file simbolici anche perché mi accorgo e vedo che sono file simbolici perché sono evidenziati parliamo di permessi con ls-l possiamo vedere una serie di informazioni abbiamo capito che è possibile avere utenti gruppi e su ogni file abbiamo tutta una serie di informazioni all'inizio della di ogni riga abbiamo un elenco di informazioni con rvx rvx dei trattini queste informazioni sono i permessi per file e cartelle sono divisi in tre perché abbiamo rvx lettura scrittura ed esecuzione sono tre gruppetti perché si riferiscono a l'utente che è anche chi ha creato il proprietario del file il gruppo perché gli utenti possono essere aggiunti a più gruppi quindi essere raccolti in un gruppo di lavoro per esempio e poi gli altri quindi tutti quelli che non fanno parte del gruppo questi permessi per l'utente possono essere osservati o controllati utilizzando groups mettiamo groups invio dice che il mio utente vbox user appartiene a due gruppi vbox user e sudo solitamente avete un gruppo che è pari al vostro utente stesso ecco perché qui abbiamo che questi file e cartelle che abbiamo creato sono intestate aggiudicate diciamo così all'utente stesso e a un gruppo che ha lo stesso nome come facciamo andare a modificare i permessi si utilizza chmod chmod sta per change mod modality quello che volete e si può andare a specificare che tipo di permesso vogliamo aggiungere al file utilizzando un più o meno per esempio se voglio rendere un file eseguibile immaginiamo main.o vedete che ha solo rv anzi facciamo così per evidenziarlo facciamo ls-l main.o ok qui vediamo lo stato attuale se volesse aggiungere il fatto di poter essere eseguito farò chmod più x main.o andiamo invio faccio ls vedete che è diventato intanto verde e sono comparse le x nelle tre posizioni posso andare ad aggiungere e togliere permessi sempre con questa formula allora se io non metto nulla e metto un più x la x viene aggiunta a tutti se voglio andare a togliere per esempio agli altri l'esecuzione posso usare la lettera abbiamo quattro lettere possiamo usare la u per user g gruppo o other e a per all ma possiamo anche non mettere nulla e viene attribuita a tutti quindi proviamo a togliere l'esecuzione per gli altri quindi farò o meno x e poi aggiungiamo il file main.o andiamo invio facciamo ls-l main.o e vedete che abbiamo tolto la x qui nell'ultima posizione è sparito vogliamo toglierla anche a gruppo faremo g-x facciamo ls e vedete che è sparito anche qua quindi possiamo agire in questo modo combinando anche anche se potrebbe risultare spesso complicato avere tutta una serie di aggiunte con o meno x più rg eccetera eccetera allora un sistema che viene spesso utilizzato è quello di andare a specificare i permessi utilizzando sempre chmod ma invece che i flag e quindi non so g o più meno x eccetera eccetera si utilizzano una notazione binaria per cui io potrei mettere per esempio 6 1 1 e dico main.o do invio vediamo cosa è successo vedete che ho rv e qui resta solo esecuzione o addirittura potrei togliere tutto facendo 6 0 0 do invio diciamo ls vedete che mi resta solo rv ma come agisce questo numero il numero in realtà è provo a farvelo vedere con un editor di testo noi abbiamo rv x rv x e rv x che sono i tre gruppi di permesso ogni gruppo può essere attivato accendendo il relativo bit quindi se voglio solo x farò una roba del genere qua voglio mettere tutti i permessi metteremo così e qua voglio mettere solo r e v senza esecuzione lo scrivo in questo modo questi sono bit sono numeri binari quindi dobbiamo tradurre i tre gruppi in numeri decimali il primo quindi ogni bit vi metto qui sotto i pesi i bit sono 4 questi sono i pesi dei bit 4 2 1 mettiamolo anche qua 4 2 1 e 4 2 1 quindi se ciò se ho acceso questo 1 avrò 1 poi qui a 0 e 0 quindi il valore di questa configurazione qui sopra sarà 1 nel secondo caso li ho accesi tutti quindi prendo un 4 un 2 un 1 4 più 2 più 1 fa 7 e e qua ancora ho rv quindi 4 2 la x non ce l'ho e quindi ho 6 dovrei impostare 1 7 6 proviamo a vedere se funziona vado a prendere ch mode facciamo 1 7 6 e poi facciamo ls vedete che abbiamo lasciato la x rv x le abbiamo presi tutti e qui abbiamo solo rv ok quindi non è il massimo questo per il nostro file perché è un file di mia proprietà sarà meglio rimodificare i permessi e magari gli diamo rv non eseguibile perché è un file che non sarebbe eseguibile mettiamo anche per il gruppo rv e per gli altri invece non possono fare nulla quindi traducendo con il nostro sistema qui avremo 4 più 2 6 per il secondo gruppo 6 e il terzo gruppo mettiamo 0 oppure se vogliamo essere un pochino più gentile lo facciamo solo leggere e quindi metteremo 4 6 6 4 andiamo ad applicarlo 6 6 4 cancelliamo quello che non serve do invio e verifichiamo infatti abbiamo rv rv r come ci siamo detti lo stesso viene anche per le directory quindi se ho una cartella posso andare impostare i diritti di lettura scrittura o esecuzione esecuzione visto che la cartella non può essere eseguita significa che non posso entrare possiamo anche modificare il proprietario e il gruppo sono altri due comandi che sono ch own e ch grp sono i due comandi che si utilizzano di solito però per prima di poter creare un utente vi devo spiegare che cos'è il super utente tutti i sistemi unix hanno un super user il super user è l'utente root viene detto è quello più potente è l'amministratore quello che può fare qualsiasi cosa sul sistema da un po' di tempo da un po' di anni a questa parte si preferisce non dare l'accesso diretto a questo super user che potrebbe fare dei danni e quindi si intermedia c'è un sistema chiamato sudo sudo vuol dire super user do questo ve lo trovate installato sulla vostro ubuntu e se voi volete eseguire un comando speciale che solo il super utente può fare dovete mettere davanti sudo sudo vi chiederà la vostra password per poter proseguire per esempio vogliamo aggiungere un gruppo all'aggiunta di un gruppo si fa utilizzando group add group add e poi metto il nome del gruppo mettiamolo demo provo a eseguirlo purtroppo mi dice non posso non puoi eseguirlo permesso negato permission denied per poter fare una cosa del genere devo usare i permessi di super utenti quindi chiedo i super poteri con sudo sudo group add demo questa volta viene eseguito mi chiede la password non è la password dell'utente root ma è la password del mio utente serve come protezione di sicurezza quindi mettiamo change me do invio e ecco che il comando è stato eseguito quindi abbiamo creato il gruppo demo ora questo gruppo demo possiamo andare ad aggiungerlo al mio utente dobbiamo utilizzare sudo sudo add user nome dell'utente il nostro utente è vbox user e poi metto il nome del gruppo quindi demo diamo invio e vi dice è stato fatto dopo aver creato il gruppo proviamo a chiamare groups sull'utente vbox user diamo invio e vedete che compare anche il nuovo gruppo demo proviamo anche a creare un utente per creare un utente bisogna sempre utilizzare sudo e usiamo user add dopodiché metteremo user 1 allora se lo creo in questo modo creiamo un utente senza la directory di home se vogliamo creare anche una home dobbiamo mettere meno m in questo modo creiamo un utente completo l'utente completo ha anche la sua cartella quindi user 1 diamo invio l'utente è stato creato ora sempre come sudo associamogli una password quindi facciamo sudo passwd user 1 diamo invio chiede una nuova password mettiamo una password sempre uguale change me ok la password è stata creata ora possiamo verificare se è stata creata la home facendo ls home diamo invio vedete che è stata creata anche la cartella user 1 per il nuovo utente che può accedere al sistema a questo punto avendo gruppi utenti possiamo tornare ai nostri file con ls menelle e provare a cambiare il gruppo per esempio a un file per cambiare il gruppo a un file usiamo ch grp dico il qual è il nome del gruppo per esempio demo e poi il nome del file main.c diamo invio per poter fare un'operazione del genere dobbiamo essere sudo quindi mettiamo sudo invio diamo ls menelle e vediamo che main.c è stato passato al gruppo demo io come dbox user posso comunque andare a leggere e vedere il contenuto possiamo provare facciamo cat main.c e riusciamo a vedere il contenuto dovremo anche poter riuscire a modificarlo possiamo provare ad assegnarlo ad un altro utente in questo caso useremo ch own ch own quindi vuol dire change owner nome dell'utente user 1 e poi il file main.c diamo invio ovviamente anche in questo caso ci siamo dimenticati sudo che è un'operazione che va oltre al singolo utente facciamo ls menelle e ci troviamo il file main.c assegnato a user 1 qui potrei modificare facciamo una prova ch mod e togliamo agli utenti del gruppo la possibilità di scrivere quindi facciamo group meno write di main.c in questo caso mi dice che non è permesso perché il file non è più mio allora diamolo con sudo il comando viene accettato ls menelle vedete che user 1 ora ha perso la possibilità di essere scritto proviamo a fare un cut di main.c vediamo il contenuto provo a editarlo con vi vi main.c vediamo cosa succede mi dice qui sotto ridonli quindi vuol dire che non lo posso modificare possiamo provare a fare insert metto una z esc due punti wq punto esclamativo do invio ma mi dice che non posso modificarlo sono costretto uscire esc due punti q punto esclamativo esco senza poterlo modificare quindi abbiamo visto anche l'efficacia di gruppi e utenti parliamo dei processi nel nostro sistema sono in esecuzione tantissimi processi che posso vedere con ps ps viene eseguito all'interno della sandbox dell'utente in questo caso mi fa vedere ps stesso che è stato eseguito il comando ha fatto parte di un processo che è terminato subito e poi ho bash che è la console dentro cui stiamo lavorando ogni processo ha un pid questo p-i-d che è indica il riferimento del processo che posso usare per mandare dei segnali al processo tipicamente si manda per esempio un kill con il processo per terminare non è una cosa molto bella da fare si fa quando i processi sono bloccati ps può essere lanciato con l'opzione mnl vedete in questo caso mi dà tutta una serie di informazioni aggiuntive ovviamente il super user può avere una visione più ampia di quello che c'è in esecuzione posso diventare super user utilizzando anche su su vuol dire super user metto la password change me ora vedete che è cambiato la shell e mi scrive root perché in questo momento su è leggermente diverso da sudo sudo e temporaneo facendo su trasformo la mia shell il mio terminale in un terminale aperto per l'utente root proviamo a lanciare ps meno qua lanciamo ps qui dentro vedete che vedo qualcosa in più il super user può avere una visione solitamente più ampia di quello che accade su questo installazione non gira molto quindi questo è quello che abbiamo posso fare exit e ora torno con l'utente normale un altro comando che viene usato spesso è top top vedete stampa tantissime informazioni viene aggiornato regolarmente e mi dice che cosa c'è in esecuzione i vari processi il pid quindi il loro id di riferimento e le risorse che utilizzano la cpu la memoria in modo da sapere che cosa sta girando per uscire basta fare ctrl c e terminiamo vediamo come installare dei pacchetti da terminale vi ho detto solitamente si possono utilizzare degli strumenti di sistema che abbiamo visto ma a volte uno vuole andare ad aggiornare il proprio sistema utilizzando il terminale no per installare pacchetti prima di tutto si fanno sempre due operazioni lancio sudo apt che è il sistema di gestione dei pacchetti e faccio update con sudo apt update vado ad aggiornare gli indici dei pacchetti gli indici sono degli elenchi con dentro degli indirizzi dei repository con tutti i pacchetti che possono servire al nostro sistema in questo caso abbiamo terminato abbiamo aggiornato questi indici mi dice che ci sono dei pacchetti che possono essere aggiornati in questo caso parliamo di upgraded e se voglio aggiornare questi pacchetti in modo che vengano aggiunte importate delle modifiche in modo che siano di solito sono aggiunte o patch per evitare falle di sicurezza e cose del genere faremo sudo apt upgrade upgrade è di solito un pochino più lunga come operazione però va ad aggiornare tutti i pacchetti che possono essere aggiornati in questo caso mi dice vuoi continuare mettiamo la I maiuscola diamo invio e inizierà a scaricare ed aggiornare i pacchetti aggiornabili in modo da rendere il sistema più possibile aggiornato e recente la procedura di aggiornamento può richiedere qualche minuto quindi attendiamo con pazienza che arrivi al 100% in modo da poter utilizzare il sistema di aggiornamento di nuovo il nostro sistema solitamente quando sta girando l'aggiornamento dei pacchetti potremmo essere tentati di aprire un altro terminale basta fare da qui terminal facciamo file open terminal potrei aprire un altro per lavorare possiamo farlo ma non possiamo però utilizzare delle funzioni che vanno a influire sui pacchetti quindi se volessi installare adesso un pacchetto potrei creare qualche problema e anzi solitamente veniamo avvisati che è in corso un aggiornamento pacchetti quindi di aspettare per esempio io potrei installare qualcosa sempre utilizzando sudo facciamo apt per installare un pacchetto si mette install e poi il nome del pacchetto per esempio nmap che è un tool che viene spesso usato se provo a dare invio chiede la password ma vedete che mi dice che non può procedere perché c'è un lock facciamo ctrl c per fermarlo ci riproviamo più tardi non appena è terminato l'aggiornamento dei pacchetti siamo all'83% aspettiamo ancora un po' avendo terminato la procedura di aggiornamento possiamo provare di lanciare il nostro comando per installare per esempio il tool nmap diamo invio quindi sudo apt install nmap mi dice vuoi continuare diciamo di sì e viene scaricato e installato al termine siamo già pronti per utilizzarlo aspettiamo un attimo nmap è un tool che si utilizza come coltellino svizzero per la rete se non erro quindi facciamo nmap meno meno help diamo invio e vedete che è stato installato posso disinstallarlo facendo sudo apt remove nmap e in questo caso diamo invio e viene rimosso dice vuoi continuare diciamo di no perché comunque è utile come si fa a sapere i pacchetti quali pacchetti andare ad aggiungere allora si può fare delle ricerche sia da terminale o in rete solitamente altrimenti io consiglio di utilizzare synaptic cerchiamolo qui dentro se metto synaptic eccolo qua package manager è un tool grafico mettiamo la nostra password diamo invio synaptic si apre possiamo fare delle ricerche in modo da cercare quello che ci serve close deve aggiornarsi una volta che è terminato poi possiamo andare a cercare quello che ci serve e provare a installare per esempio facciamo search mettiamo descrizione mettiamo solo un name voglio per esempio python facciamo python faccio cerca e qua mi va a presentare tutta una serie di pacchetti poi bisogna andare a beccare quelli giusti sono in ordine alfabetico ci sono alcuni principali altri no python probabilmente sarà sulla p ne abbiamo vari e bisogna riuscire a trovare quello corretto quindi in questo caso è sempre meglio seguire qualche indicazione che viene data da chi ci dice di installare un pacchetto a volte è più facile scaricarlo da un sito e installarlo ok che passate queste procedure che sono un po al limite quindi sono già più da amministratore possiamo chiudere la nostra interfaccia infine per chiudere correttamente il sistema possiamo passare o dal menu e facciamo shutdown o logout altrimenti abbiamo i comandi da lanciare sempre come sudo di shutdown shutdown spegne tutto il sistema c'è anche alt con l'h quindi possiamo usare o shutdown o altrimenti l'altro comando è un pochino più brusco alt proviamo a lanciare shutdown andiamo invio ed ecco che dice il sistema sta per spegnersi e abbiamo poco tempo per farlo quindi viene schedulato si può anche programmare a tempo se vogliamo farlo spegnere dopo un tot minuti o una certa ora spero sia stato un video interessante sicuramente molto corposo con tanti argomenti tienilo per poter rivedere ripassare mi raccomando guarda l'indice dettagliato nella descrizione in modo che puoi saltare all'argomento che ti interessa di più senza dover rivedere tutto da capo come dicevo questo è un mini tutorial una guida molto breve all'utilizzo di linux con i comandi fondamentali quindi per creare file utenti muoversi nelle cartelle e iniziare a utilizzare questo sistema che spesso ben si sposa con lo sviluppo di firmware o la creazione di sistemi con database server web e così via per oggi è tutto ti saluto ti ringrazio e ci vediamo presto ciao